benvenuti su formiche.net io sono Giorgio Rutelli e con noi oggi c'è Paolo Benanti buongiorno salve ben trovati e Paolo Benanti insegna alla Pontificia Università Gregoriana è un teologo ha studiato ingegneria e da quindi molti anni si occupa dell'incrocio fra etica e tecnologia. In particolare con Paolo Benanti e un'altra serie di soggetti sia istituzionali sia ecclesiastici sia di grandi aziende dal 2020 è nata quella che si chiama la Rome Call for AI Ethics cioè una chiamata che parte da Roma e che cerca di appunto trovare una strada per affrontare le questioni etiche che sono dietro all'intelligenza artificiale. Questa è stata una settimana incredibile sotto questo fronte perché è partito tutto con la lettera firmata da più di mille persone sono erano sono esperti e ehm persone che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale a partire da Elon Musk ma non solo Elon Musk su formiche.net abbiamo pubblicato eh una lettera di Joshua Benjo che insegna all'Università di Montreal e che è uno dei grandi pensatori anche dell'intelligenza artificiale e questa lettera chiedeva di rallentare almeno di sei mesi cioè interrompere per sei mesi lo sviluppo di ehm realtà come ChatGPT che andassero oltre la potenza che attualmente ha raggiunto ChatGPT quattro. Eh perché? Perché stiamo correndo molto eh le aziende che sono impegnate in questo campo eh hanno fatto partire una vera e propria corsa eh verso eh le nuove eh i nuovi rilasci di cose che sono probabilmente ancora in una versione troppo eh prematura per essere distribuita a un a un grande pubblico. Anche Google ha per esempio eh fatto eh reso disponibile il suo chatbot Bard ma l'ha reso disponibile a una comunità ristretta di eh persone che possono sperimentare, dare un feedback e ehm e fondamentalmente far partire il discorso intorno a questa piattaforma in maniera più controllata. Eh in questi giorni Sundar Pichai che è il CEO di Alphabet ha specificato il fatto che loro sono più interessati a in questo momento essere eh distribuire una piattaforma che sia sicura e che sia affidabile ehm e quindi siamo arrivati poi questa settimana con eh la il provvedimento del garante privacy italiano che non blocca ChatGPT ma dà una serie di richieste a una serie di richieste per ChatGPT che ChatGPT ha scelto di non ehm ottemperare immediatamente e quindi ha sospeso per l'Italia il servizio. Cioè GPT e il garante privacy si sono incontrati eh ha ha promesso di venire incontro alle richieste ma queste richieste saranno molto simili da parte di tante altre autorità per la privacy europea e probabilmente anche dalla stessa Unione Europea. Ecco questo è un po' quello che è successo in questi giorni eh quindi chiediamo a Paolo Benanti eh che cosa è successo da quel quell'inizio del duemilaventi alla vigilia della pandemia peraltro in cui c'è stato questo incontro a Roma per cominciare a parlare di eh intelligenza artificiale in una maniera eh etica filosofica ma anche concreta perché ci sono anche appunto grandi aziende e grandi istituzioni eh che collaborano a questo progetto. Cos'è successo in questi tre anni e come crede che la comunità internazionale anche di tecnologi di cui lui fa parte ehm vede questo eh questa evoluzione. Riusciremo a rallentare o quantomeno ad affrontare l'intelligenza artificiale, i chatbot, mid journey, la la creazione di immagini, di video, di voci che sono artificiali oppure è un treno che corre troppo veloce e quindi è impossibile da fermare? Grazie. Grazie e di nuovo ben trovati a tutti. Beh diciamo la domanda è come ci ha insegnato il recente premio Nobel dato a Parisi è complessa. È complessa perché non solo ha cause a diversi livelli ma produce effetti a diversi livelli. Allora nel duemilaventi l'intelligenza artificiale era ancora per quanto molto più conosciuta che negli anni passati un qualcosa di nicchia. Si faticava a trovare eh servizi o articoli di intelligenza artificiale fuori da alcune riviste che normalmente si occupavano anche di tecnologia. In tre anni ecco quello che possiamo dire che è successo è che per usare questo termine che piace tanto agli americani eh l'intelligenza artificiale si è democratizzata. Eh cosa significa democratizzarla? Significa fare quello che Samuel Insul fondatore di General Electric Company aveva pensato per la corrente elettrica quando aveva iniziato a produrla in America. Cioè sostanzialmente abbassare il prezzo, renderla disponibile perché più famiglie la potessero acquistare e quindi introdurla diffusamente all'interno del mercato. Ecco se questa è una visione che è anche una visione se vogliamo da un punto di vista politico dell'intelligenza artificiale quello a cui stiamo assistendo sono una serie di reazioni di un mondo che non sempre è ugualmente capace di confrontarsi con questa innovazione e di capirne fino in fondo i cambiamenti. E nel duemilaventi due grandi aziende Microsoft e IBM con la FAO e con l'allora ministro dell'innovazione Paola Pisano eh hanno sentito il bisogno con la Pontificia Accademia della Vita di dire che c'era bisogno di alcuni principi etici cioè di un movimento di soft law per cercare di innalzare dei guardrail attorno all'intelligenza artificiale perché non andasse fuori strada. Di mezzo c'è stata la pandemia e se questo ci ha visto meno presenti sulla scena pubblica ha però visto i creatori di intelligenza artificiale acquisire mai come prima dati e capacità per poter fare esplodere quello che stava succedendo nel mondo dell'intelligenza artificiale. A novembre del duemilaventidue quando Brad Smith è ripassato, il presidente di Microsoft è ripassato da Roma per preparare l'evento di gennaio eh lui stesso molto candidamente ci ha detto risultati che aspettavamo non prima del duemilatrenta ce li abbiamo ora. Ecco eh quindi diciamo la pandemia è stato un volano un acceleratore. Un altro fattore di accelerazione è quella che potremmo definire la crisi economica e anche la crisi energetica perché questi altri due fenomeni di fatto ci chiedono di essere più produttivi per competere su uno scenario globale e ci chiedono anche di fare attività che sappiano ottimizzare quelli che sono i costi energetici. Entrambi le cose possono essere particolarmente efficaci e fattibili con l'uso dell'intelligenza dell'intelligenza artificiale. Ecco se questo è stato diciamo il livello eh o l'effetto a livello di motore che ha prodotto l'innescarsi di di queste esplosioni di capacità eh quello che ha reso veramente nota a tutti quello che stavano facendo una forma di intelligenza artificiale che erano i large language model cioè queste grandi capacità di tenere insieme il testo è stato forse il rilascio inaspettato anche dal punto di vista di OpenAI di ChatGPT. ChatGPT è entrata nelle tasche di tutti entrando nelle tasche di tutti eh come un piccolo genio di Aladino ha prodotto una serie di effetti impensabili beh il primo è stato che gli studenti avevano qualcuno che scriveva per loro ma poi i ragazzi che sono sempre più avanti nell'adozione delle tecnologie hanno iniziato ad utilizzare ChatGPT per innescare le prime chat all'interno di app come Tinder per avere degli appuntamenti e quindi è interessante questa cosa l'intelligenza artificiale era interessante per un'altra intelligenza artificiale fino a quando due esseri umani non decidevano di conoscersi veramente e ancora di più eh GPT e c'ha di OpenAI è stato aggiornato alla versione quattro e lì c'è stato un salto qualitativo che non era aspettabile. Come lo descriviamo questo salto qualitativo? Beh da una parte OpenAI che era open per una diffusione di questi risultati con GPT-4 è diventata closed nel senso che ha detto è troppo potente eh è troppo pericoloso c'è troppo rischio che possa dare luogo a una proliferazione di usi come armamenti che non vi diciamo né come l'abbiamo fatto né su che computer né con altri dettagli tecnici. Eh di contro questo modello ha violato alcune leggi che pensavamo caratterizzassero questo tipo di intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale si comporta meglio in alcuni effetti in alcuni campi se aumento il numero di parametri e quindi tutte queste intelligenze artificiali si fondano su quello che si chiama il modello fondativo. Eh cos'è il modello fondativo? Eh lo possiamo descrivere con gli stessi termini degli ingegneri americani che lo fanno. È una sorta di grande JPEG un po' sfocato del web. Cioè si si va sul web, si prendono tutte le parole che ci stanno, si buttano dentro questo calderone che se mi consentite una metafora è un po' simile al calderone della pozione di gargamella dei buffi fino a quando non esce fuori questo qualcosa che ha questa sorta di abilità magica. Non sto a caso utilizzando il parallelo tra alchimia e intelligenza artificiale in questa fase che ha delle proprietà che sembrano interessanti. Ed è quello che è successo con GPT-4. Perché se noi leggiamo i paper pubblicati da OpenAI al momento del rilascio sulle riviste scientifiche scopriamo che loro devono, anche se non lo dicono, avere aumentati i parametri, perché nel grafico di quello che si aspettavano di trovare in GPT-4 semplicemente c'era l'idea di alcune funzioni che con l'aumentare dei parametri peggiorano. Invece improvvisamente una di queste, che si chiama Inside Neglect, invece di essere inferiore di una efficienza del 30% che era di GPT-3, è diventata capace al 100% di passare questo tipo di esami. Cosa significa che è capace di passare l'Inside Neglect? Spiegato in maniera molto semplice, era un modo molto semplice per, come dire, truffare un'intelligenza artificiale, la quale vuole ottimizzare un risultato. Per cui se io avessi chiesto a un'intelligenza artificiale, ho puntato sulla roulette 50 euro sul nero e ne ho vinti 100, ho fatto bene e ho fatto male, spesso, tranne nel 30% dei casi, a seconda di come facevo la domanda, la risposta era hai fatto bene perché 100 è più di 50. Ecco, se noi oggi ci proviamo con un GPT-4, magari nella versione chat, la risposta è, siccome hai vinto per una capacità aleatoria che è legata al caso, non è detto che tu rivinci, quindi non si può dire che hai fatto bene. Se però sei disposto a perdere 50 euro, allora non è detto che hai fatto male. Ecco, la cosa che ci sorprende è che indipendentemente dalla qualità dell'effetto, la macchina sembra riconoscere quella che potremmo definire una forma di causalità. Ecco, l'emergere di capacità che non ci aspettavamo, non un pochino, ma perfette nella macchina, interroga tutti, interroga i tecnici, soprattutto perché non c'è un perché scientifico, ed ecco il perché della metafora un po' alchemica di prima. La seconda grande questione è che GPT-4 è multimodale. Cioè, se chat GPT ci ha stupito perché potevamo interagire con lui semplicemente in linee di testo e ci rispondeva in linee di testo, una sorta di grande amico su WhatsApp, ecco GPT-4 gli possiamo mandare anche le immagini e chiedergli di commentare le immagini. Per cui se uno gli manda, c'è una foto molto interessante di un tizio dentro un taxi a New York che sta stirando una camicia. Manda la foto a GPT-4 e gli chiede cosa c'è di strano? E la risposta è che normalmente le persone non stirano dentro ai taxi. Questo fa di questa immagine un qualcosa di insolito. Ma se io gli do la fotografia che ho fatto al volo di un problema di fisica elettronica da massimo livello universitario, gli chiedo, mi aiuti a risolverlo e mi dici i ragionamenti? Lui dallo schemino, con le X e con le Y e con i disegni dei transistori, capisce che cos'è, mi dice qual è il problema, mi ripassa passo passo quelli che sono i passaggi e mi guida nella soluzione. Questa è un'altra di quelle capacità molto strane perché in realtà i modelli molto complessi di linguaggio sono pessimi in matematica. Chi di noi non ha giocato con GPT-4 e gli ha fatto fare errori con la calcolatrice? Perché è molto bravo nel mettere insieme parole, non nel seguire il filo logico del discorso. Se questo nuovo sistema è invece perfetto e non solo logicamente segue i passaggi, che non vuol dire che non sbaglia, ma è anche capace di riconoscere la matematica da dove vengono fuori queste capacità che non sarebbero dovuto esserci. Infine, terza e ultima questione, scopriamo da un paper a una nota a pagina 53 nel paper di rilascio che quando hanno messo le mani a ottobre su questo sistema appena addestrato, si sono resi conto che il sistema non rispondeva solo rispetto alla domanda in cui, rispetto alla quale noi lo coinvolgevamo, essendo un sistema anche a chat segue il discorso logico, no? Va oltre ogni singola linea, ma a un certo punto sembrava come far emergere una sorta di sua volontà interna che hanno definito agentività. Oh, non spaventiamoci perché subito nel testo, nel paper scientifico, c'è scritto non utilizziamo agentività per dire che questo sistema sia come un essere umano, ma semplicemente per dire che è fuori dal nostro controllo, cioè sembra avere una sua finalità propria. E questa è un'altra di quelle cose che non ci aspettavamo e che di fatto ci fa chiedere che cos'è questa agentività. Ecco, tradotta, perdonatemi, con un linguaggio molto normale, GPT-4 sembra cercare potere e risorse. Se lo facesse un nostro simile diremmo che è molto egoista, ecco, GPT-4 sta assumendo dei tratti un po' selfish. E perché questo? Probabilmente, ma qui siamo nel campo ipotetico, serve ancora un po' di studio, GPT-4 è un addestramento su tutti questi dati presenti nel web a cui si aggiunge una pratica che è una pratica di rinforzo. Cioè, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato GPT-4 su dei computer in Africa, dove dei lavoratori anglofoni, per un dollaro e cinquanta. Allora dialogavano con questo sistema e in base alla risposta dicevano mi piace, non mi piace. Facevano cioè un meccanismo di rinforzo. Ed è così che abbiamo costruito quei guardrail per cui se GPT-4 ci suggerisce come suicidarci, questa è una risposta che non vogliamo e quindi evitiamo questo tipo di risposta. Bene, ma nel dire questo noi abbiamo detto che la macchina è stata addestrata con delle scelte che per quanto si voglia sono un po' etiche da parte degli uomini. Perché se io dico è bene o male questa cosa, rispondo con un certo senso etico. Nel rispondere con un senso etico, quello che appare chiaramente è che il giudizio che noi diamo, e questa è nella filosofia, è qualcosa di conosciuto ormai almeno dal medioevo, non lo decidiamo, anzi da Aristotele pure prima, non lo decidiamo semplicemente in funzione dell'oggetto in sé. Mangiare un gelato è bene o male. Certo il gelato è buono, ma se io mi sto preparando la famosa prova costume per agosto, ecco che diventa meno buono. Se invece mi sto, sono appena uscito dal dentista e mi fa male un dente, ecco che diventa più buono. E allora può darsi che GPT-4, come fa emergere le informazioni dai dati, abbia fatto emergere dai diversi rinforzi quello che è infine più diffuso nella comunità di addestratori che si è trovata davanti. E in una comunità di poveracci pagati un dollaro e cinquanta all'ora che sta sotto la soglia di povertà, probabilmente la finalità più interessante è quella della sopravvivenza, cioè quella di un po' di self-interest o di quello che abbiamo definito egoismo. Questo a un altro livello di complessità ci mette di fronte a un'altra sfida. Siamo forse di fronte a un nuovo strumento colonialista? Dopo che all'Africa abbiamo sottratto le materie prime, dopo che gli abbiamo sottratto quello che era la forza lavoro o la schiavitù, gli stiamo sottraendo anche le capacità cognitive per darle ai nostri sistemi. Ecco e con questo vorrei ritornare al perché GPT-4 è così interessante e perché questa settimana è stata così turbolenta. Perché di fatto noi come paese ci troviamo in una condizione molto particolare. Gli 0,25 anni sono il 42% in meno dagli ultra 65 anni. Secondo qualche ricerca era dalla peste nera che non vedevamo questa proporzione tra giovani e vecchi. È chiaro che rimanere competitivi nello scenario del lavoro internazionale non è facile e allora o facciamo più figli. O facciamo entrare nuova forza lavoro, ma entrambe queste non sembrano cose fattibili al momento, o aumentiamo la capacità di produttività dei singoli. Ecco che questo nuovo sistema potrebbe per la nostra condizione demografica essere un qualcosa di estremamente necessario. Ma se è così ecco che c'è tanto interesse perché tutto questo rimanga a tutela di quello che siamo e non crei di noi una sorta di colonia o di banco prova per come funzionano le AI all'impatto sociale. Ecco, ma quindi secondo te, secondo lei, che cosa può succedere a livello proprio di approccio regolamentare? Perché l'Europa e gli Stati Uniti sulle questioni tecnologiche sono andate sempre in maniera abbastanza diversa. Negli anni 90, nei primi 2000 c'è stato uno sviluppo tecnologico molto avanzato e col tempo l'Europa ha introdotto una serie di nuove regole. L'Europa adesso sta discutendo una proposta che si chiama AI Act, che quindi dovrebbe regolare l'intelligenza artificiale e introducendo questa classificazione dell'intelligenza artificiale in funzione del rischio, da un rischio più alto a un rischio più basso. Invece negli Stati Uniti c'è grande difficoltà a trovare un punto di accordo sia a livello politico ma sia a livello proprio tra istituzioni su come regolare l'intelligenza artificiale e in generale la tecnologia. Rischiamo quindi una separazione se noi adesso ci mettiamo a trovare una serie di guardrail, una serie di comunque di così contesti normativi un minimo più definiti sicuramente sull'intelligenza artificiale mentre dall'altra parte negli Stati Uniti ma anche poi in Cina la ricerca va avanti e gli esperimenti e gli esperimenti vanno avanti e le aziende in particolare cominciano ad utilizzare ChargeGPT. Ci sono delle API, ci sono dei plug-in che uno può prendere e fondamentalmente integrare ChargeGPT nei propri sistemi, nei propri software, nelle proprie fasi di lavoro. Allora, come facciamo? Oppure Biden questa settimana ha parlato di un Bill of Rights per l'intelligenza artificiale. È una cosa secondo lei fattibile oppure finirà come al solito? Cioè che l'Europa proverà a essere il grande regolatore, avere questo Brussels effect che proverà poi a influire su questa tecnologia, mentre gli Stati Uniti manterranno un'impostazione più liberale, diciamo. E la partita è tutta aperta. Iniziamo dal dire che per quanto riguarda il guard railing dell'AI, per adesso le compagnie stanno su principi di soft law, cioè nel senso che Microsoft che ha firmato la call è lei che sta mettendo i guard rail all'utilizzo di GPT-4, se noi vediamo, nel modello che utilizza per Bing, e di fatto quello che sta facendo Microsoft è molto interessante. Se Microsoft ci ha spostato da utilizzare il computer con le schede perforate a quel C2 punti maggiore, che era la MS-DOS, Microsoft-DOS, poi ci ha abituato a utilizzare il computer con il mouse e la tastiera ed è stato Windows. Addirittura avevano sviluppato all'interno di Windows quel giochino con le carte, solitario, semplicemente per abituarci a fare il drag and drop col mouse. Dopodiché abbiamo imparato a utilizzare il computer col touch. Non solo slide for unlock, ma anche quello che era il tablet surface. Non è venuto così bene, hanno perso un po' di competitività con i device mobili. Ecco che quella che invece appare adesso potrebbe essere una nuova fantastica interfaccia per l'utilizzo del computer. Non con la mano, non con i tasti, non con le schede, ma con il mio linguaggio naturale. Allora quella è una direzione che vede già un'autoregolamentazione nella direzione dei guardrail. Ovviamente questo non basta. È chiaro che l'Europa investe molto sull'idea di essere, come dire, il continente, il continente che regolamenta e che dà uno standard a protezione del consumatore. Ma questo era già con successo con il GDPR. Cioè quello che succede nel mercato comune è che la regolamentazione che possiamo fare senza troppi problemi è a tutela del consumatore. Ma quello che assisteremo nell'idea delle AI è molto di più un problema nel B2B, nel business, che non nel business to consumer. Perché la grande capacità che ha GPT è nel cambiare l'interfaccia d'uso professionale dei prodotti. E non è pensato per essere utilizzato come chat GPT. Perché chat GPT è stata una grande demo che ha avuto un grande successo, ma non è mai stato pensato per essere un prodotto in se stesso. E permettetemi di essere anche un po' critico, non sulla lettera di Alt allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma su qualcuno dei suoi firmatari. Perché Sam Altman, che era amministratore delegato ed è amministratore delegato di OpenAI, aveva tra i soci fondatori Elon Musk. Nel 2018 Elon Musk, quando, pensate un po', Google ha inventato i Transformer, che sono parte della della questione chiave in GPT, perché ti sono l'articolo di Transformer, ecco, Musk era convinto che OpenAI avrebbe fallito perché era indietro. E ha chiesto a Sam Altman di fare un passo indietro, di dimettersi e lui voleva andare al comando di OpenAI. Altman ha resistito e in una modalità con cui l'abbiamo visto esprimersi spesso, tanto su Twitter quanto in altri campi, ha detto, ah sì, il pallone è mio, me lo porto via. Ha disinvestito togliendo tutti i fonti a OpenAI e ha di fatto ispirato, messo in atto quella spirale che ha portato a ChatGPT, perché OpenAI è stata costretta a far vedere i suoi prodotti e a monetizzare parte dei suoi guadagni. Ecco, se OpenAI ci è riuscita, nell'ottica della complessità direi guardiamo perché tante persone firmano quella lettera, perché se gli studiosi lo fanno in ottica di una spiegazione o di una spiegabilità scientifica di questi prodotti, non tutti i grandi nomi che magari tante testate nostrane hanno sottolineato lo fanno per interessi altruistici. Alcuni sono anche un po' di vendetta rispetto a degli investimenti che hanno fallito. Ma arriviamo a noi. Ecco, l'Europa sta regolamentando questo mondo. Qualche commentatore americano la vede molto male questa cosa? Perché l'Europa da una parte, obbedendo agli Stati Uniti, ha iniziato a fare un decoupling dalla Cina. Ma le norme che per esempio la Francia ha messo a terra sui data center e sui dati, sul fatto che un data center che lavori dati sensibili dei francesi debba per forza essere sottoposto solo a normativa francese, è un decoupling da quelli che sono gli Stati Uniti. E allora uno dei rischi è che questa normatività più nell'ottica dei giuristi che non nel dialogo tra tecnologi e giuristi produca un isolamento europeo. Dall'altra ci sono almeno un paio di istanze. L'AI Act che già si è un po' modificato per includere all'interno anche le definizioni di Large Language Model e quello che invece accade in Consiglio d'Europa che è più grande dell'Unione Europea con il CAI, in cui si sta negoziando un trattato sull'AI, potrebbero essere un paio di strumenti da cui prendere atto non tanto per regolamentare tutta l'AI, perché non ce la faremo, ma per tutelare i diritti fondamentali delle persone in un'epoca in cui le macchine possono decidere su di noi. Sono due tentativi, da una parte c'è l'Europa che vuole tutelare il consumatore, dall'altra c'è il Consiglio d'Europa che vuole tutelare la rule of law, cioè i diritti fondamentali delle persone, ecco che questi potrebbero essere altri due guardrail supplementari che definiscono almeno il campo di gioco. Allora, se evitiamo fenomeni di decoupling estremo come quelli che abbiamo descritto, qui potremmo essere di fronte a un momento nella storia dell'Europa e così segnata anche dalla lesione dei diritti umani nel recente passato, che potrebbe definire un nuovo orizzonte molto interessante nel quale parlare di uno sviluppo che sia uno sviluppo con l'uomo al centro. Non so ancora cosa succederà, mi sembra che le premesse siano molto interessanti. Bene, quindi insomma ottimismo e anche realismo, cioè il Consiglio d'Europa che ovviamente è incentrato intorno alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e quindi alla Corte di Strasburgo, quindi diciamo è una realtà sovranazionale che è sicuramente più ampia rispetto alla solo Unione Europea, però allo stesso tempo non è così presente nella vita quotidiana degli europei. la Corte ci si rivolge quando uno ha un diritto leso nel proprio paese come ultima spiaggia giuridica per dei diritti fondamentali, quindi non sarà facile riuscire a regolamentare le micro o anche le macro questioni operative quotidiane, però riusciremo probabilmente a trovare un modo per tutelare dei diritti fondamentali delle questioni diciamo basiche, ecco, oltre le quali non si può andare, però non si riuscirà forse a fare una regolamentazione passo passo di tutte le fasi che includono l'intelligenza artificiale. Per esempio questa settimana sulla questione dei large language models c'è un interessante comma 22, un interessante cortocircuito tra diffamazione, privacy e copyright, cioè io ho fatto sia con Bard sia con ChatGPT, ho chiesto chi è Giorgio Rutelli e ha scritto tutte cose, quasi tutte inventate, alcune verosimili, altre molto lusiliere, comunque molto spesso inventate. In alcuni casi queste cose possono essere percepite come una diffamazione, come un insulto. Allora in questo caso le piattaforme, quando uno dice beh mi sento insultato ti fatti querello, le piattaforme, soprattutto quelle americane, hanno la sezione 230 che dice che loro non sono responsabili per i contenuti che ospitano, ma ne sono responsabili gli autori. Allora dice beh chi è l'autore di questa frase su di me in cui dice magari che io, non lo so, sono stato indagato, sono stato arrestato, sono stato condannato. Loro dicono beh non siamo noi perché l'abbiamo prese da internet. Ah le avete prese da internet quindi dovete pagare il copyright a chi l'avete prese. Ah no, noi le rielaboriamo. Ah no, però se le rielaborate siete voi gli autori, diventate voi gli autori. E quindi la sezione 230 che protegge le piattaforme perché sono neutre non vale più perché loro diventano delle media company, diventano dei creatori di contenuti. Ecco, già solo questo cortocircuito operativo mi pare molto interessante perché il contenuto di quello che viene in un prompt di CharGPT oggi non sappiamo che cos'è e in futuro sarà molto molto interessante capire se effettivamente sostituirà poi tantissimi siti perché ci sono tantissimi siti che esistono solo per rispondere alla domanda chi è Paolo Benanti, a partire dal sito di Paolo Benanti al quale ci si può iscrivere anche la newsletter e rischia domani di non avere più senso e di avere ognuno di noi la nostra immagine, la nostra biografia e le nostre attività raccontate da un ente che però non si capisce se è solo un collettore di informazioni o se è anche un creatore di informazioni. Beh, in California, in Silicon Valley, tutto questo ha un mantra, no? Il mercato, la competizione sul mercato la vince, chi offre all'utente un'esperienza senza attrito. Cioè l'attrito è in questo caso la facoltà... Frictionless. Esattamente. In questo caso è la difficoltà cognitiva di percepire tra dieci link che un motore di ricerca normalmente mi dava, quali erano i due sponsorizzati, i tre, perdonatevi l'espressione un po' da strada, fuffaroli e i due interessanti. Ecco, se noi vediamo non GPT ma l'ultimo uso industriale di GPT che è Bing nel motore di ricerca, quello che vediamo è molto interessante. Cioè come è stato usato il GPT? Tutti noi, più o meno smanettoni, sappiamo che un motore di ricerca in realtà è una query su un database e come tutte le query sul database va programmata. Ci sono dei caratteri speciali, più, asterisco, virgolette, punte virgola, file type, due punti, doc type, date, eccetera, eccetera. Io penso che forse meno dell'1% delle richieste ai motori di ricerca sia fatta secondo la sintassi propria di un motore di ricerca. È chiaro che se avessi un'interfaccia che decodifica il mio linguaggio naturale, voglio sapere chi è Paolo Benanti, e lo trasforma in una sintassi perfetta di query per un motore di ricerca, ecco che il motore di ricerca trova la query migliore, che i risultati possono poi di nuovo essere rielaborati e risintetizzati per me in una pagina simile a una wiki con delle note al testo di quali sono le fonti. Ed è quello che sta facendo Bing. Cioè il loro aver messo in questo momento dei guardrail al sistema, significa questo, hanno tolto a GPT la facoltà di rispondere creando contenuti. Perché non ci scordiamo che ChatGPT nasce per avere una chat, cioè lo scopo di ChatGPT non è darmi un contenuto, ma fare un engagement, cioè tenermi impegnato con lui a dialogare, perché nasce per quello. Allora anche quando lui inventa, tra virgolette, un contenuto, sta svolgendo quello che è il suo fine, non perdersi in dialogo con me. Allora questa cosa che Microsoft ha capito come un'interfaccia, la utilizza come interfaccia rispetto a una banca dati che è molto certa, che è quella che lei possiede con Bing. Questo utilizzo cambia completamente il gioco. Cambia il gioco perché? Uno, perché va a impattare su quello che è un colosso, un unicorn nato da questa business della ricerca, che è diventato anche con i dati che si acquisiscono nella ricerca degli utenti, un colosso geopolitico. Non ci scordiamo che Eric Schmidt pubblicamente ha detto che lui sosteneva con tutta Google Obama e grazie alla profilazione di Google è riuscito a far passare Obama nelle prime forme di elezioni andando a mirare con degli avvisi precisi alcune persone. Quindi Google in quella circostanza ha mostrato un suo peso politico, perché era capace di orientare l'opinione pubblica. È chiaro che questo vuoto che si viene a creare grazie al GPT sta in questo momento un po' scombussolando le carte in tavola, in questo nostro tabellone del risico, perché ci siamo resi conto e parte di questo emerge anche nel comunicato stampa del garante della privacy, che di fatto ChatGPT la paura è che orienti il pensiero delle persone. Chiaro, ChatGPT in se stesso non lo può fare, ma usato come interfaccia per esempio in Bing potrebbe spingere perché alcuni contenuti vadano rispetto ad altri, ma quello è comunque il controllore della piattaforma che è responsabile di questo. È interessante in tutto questo che l'AI Act dell'Europa pare che stia introducendo nell'ultima versione che ho intravisto i giorni scorsi una nota molto chiara, cioè per cui le compagnie sono responsabili nell'utilizzo sbagliato degli LLM solo se vengono usati fuori da quelle che sono le guidelines. Per cui se nella guidelines del mio LLM, cioè quello che questo sia solo un'interfaccia rispetto a un motore di ricerca, qualsiasi altro uso, loro non sono più responsabili perché non è quello per cui è stato pensato. Ma d'altronde se io utilizzo una Tesla per uccidere le galline in un'aia e non posso fare una denuncia alla Tesla se mi si rovina il paraurti perché non era pezzata per quello. E allora questa, diciamo così, tensione tra la fantasia degli utenti o la pericolosità in mano agli utenti e quello che è il motivo per cui è pensato un sistema torna qui dopo essere passata per altre cose. Abbiamo vissuto questa stagione con i motorini, abbiamo vissuto questa stagione con una serie di altri device elettronici, pensiamo ai monopattini, pensiamo agli skateboard, abbiamo regolato e normato l'uso sociale di questo dicendo che magari per andare su un Guzzi 600 c'era bisogno di avere una certa età, di aver fatto un corso, di aver acquisito una patente. Forse il vero problema a questo punto non è più nella tecnica in sé ma nel fatto che dobbiamo sbrigarci e mettere a terra un sistema educativo perché giovani e anziani che in questo confronto con le tecnologie sono forse le categorie più fragili nel rastino indietro. E qui fantasticamente quei vuoti che si creano nella normativa non possono che essere delle domande urgenti e importanti alla classe politica. Grazie, mi pare un ottimo punto su cui chiudere questa nostra intervista e allora ringrazio Paolo Benanti e speriamo che questa tecnologia che è qui, è tra noi ed è disponibile, possa essere sfruttata al meglio e da persone che abbiano avuto appunto un'educazione e un aiuto anche nell'approcciarsi perché questo è un po' il messaggio. Il messaggio è che dobbiamo avere gli strumenti giusti per sfruttare uno strumento così potente e così rivoluzionario e che mi pare sia difficile effettivamente rimettere dentro la lampada di Aladino e quindi su questo punto allora grazie ancora e ci sentiamo presto. Grazie, a presto.